buongiorno buongiorno coccodrilli ci siamo ci sia no vabbè sta pieno anche stamattina nonna marì sta pieno mamma mia sta pieno qui con maria d'ora guardate oggi che frisega davanti è bellina maria d'ora tu canona non mi chiamano maria d'ora io mi chiamaria non mi chiamano faustino ma faccio su apre questa porta fa apre 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 salva è peggio dei cani pinto importante ecco le calze no te le tiro su te le tiro su eccola ho visto che sta cucina tante robe buone però toccherebbe fa la ricetta e la torta al testo e metterla su youtube che la fede qua e mo la famo la famo adesso su youtube famo una bella ricetta sulla torta al testo e poi facciamo raccontamo anche la storia d'amore nonno foto di nonna maria vero? questo è importante quello è importante 62 anni bollo tu cano mio buongiorno 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 un cazzo eccoci adesso faremo un bel riscaldamento muscolare per tutti e due pronti? 3, 2, 1 vai 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 così vai così destro sinistro antipasto misto dai dai versoitution così destro sinistro vai vai destro sinistro antipasto misto vai destro sinistro antipasto misto campanaro via tempanaro campanaro meglio no più campanaro o no più campanaro ma non mi date i curiosi, basta vai, vai, vai cambia ruota, 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 ruota cambio, cambio cambio, campanaro campanaro, a tempo tutti a tempo, seguimi destro, sinistro antifastomisto buongiorno, buongiorno buongiorno un buongiorno un cazzo eccoci, adesso faremo un bel riscaldamento muscolare per tutti e due pronti? 3, 2, 1, vai mi sono messo giù a rispondere ai vostri commenti su youtube e se volete andare sul mio canale fate swipe anche perchè oggi doppio appuntamento storia di ieri più c'è uno scherzo telefonico alle 18 una scommessa con voi al momento sono a 57.7 se entro la fine di marzo arrivo a 100.000 vado scalzo a D'Assisi vestito da papa oh no, ma che stai facendo? città città che parla di niente ha preso il crotone levate ha preso 4 pere dal crotone ah ma stai guardando il pinguino? ah sì va quel pinguino ti ha sacco di coglioni mi fa il piacere ma stai guardando il pinguino guarda che la allora fammi toccare sotto palla magari un sacco di coglioni battere porta fortuna oh pinguin sto fine settimana allora facci vincere qualcosa o no? io lo sento ma non ti preoccupare che vinci vinci guarda come guarda pinguino che stai fai o no? che levate che stai fai piccolo pangolino? no, ma stai di coglione che stai fai? ah no, già cricchi no, a cricchi no al pinguin che stai fai? allora, molto doppio assuntuale che fai? ti fa un pennello ti fa un pennello guarda che bel pennello stamattina che posso fare guarda che bel pennello guarda che bel pennello sono uno scemo di questo modo vado a fare fra rompe il cazzo un pennello un pennello un pennello ce l'ho imprata le gambe fa vedere fa vedere dai fa vedere fa vedere o no? fa vedere bottele porca bo porca bo porca bo perché non sa chi bo chi no oh no siamo tutti quanti sul croce strada strada la 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 è la strada strada la mia che non la vuol prendere eccola è tutta mascherata la 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 ora ora monta sulla mini insieme ora ora ti vengo a prendere e portarti fuora fuora la 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 siamo tutti pronti tutti carichi oh yeah se sei un poccodrillo dillo ok ci sei perché noi siamo carichi oh yeah ci qua gli ultimi colleghiamoci gli ultimi ritocchi per la macchina questa è la più temuta trezzica tutto ecco guardate il body tech vuoi un po' di quinoa dai la quinoa senti 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 mangi senti dai uno vai 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 si si niente quinoa va bene la quinoa ma con un tocco di classico un po' di coppa di maiale eccola vai quinoa e coppa di maiale vai quinoa e coppa di maiale al top buonissimo buonissimo ultime ore per acquistare dal mio merchandising e partecipare al contest ve la vengo a portare io la roba un fortunato controllando ancora domani ore 18.30 l'estrazione live marino dormimo o no dormimo o no ma che dormi ma mi pare che dormire ma tu sei una sega americana pure 18.30 diretta karaoke fa meglio fa meglio fa meglio mi aspettiamo dimmi perché quando penso penso solo a te dimmi perché quando vedo vedo solo te dimmi perché quando torni presto voce vola colomba bianca vola diglielo tu eccolo il boss la macchina non potevo non potevo venire qua e andavo all'altro padre pio sotto casa mia vedete guardate questo con l'early davinson viene da padre pio si raga tanto voi dici puoi avere qualsiasi cosa ma devi rimanere sempre te stesso io sento delle volte venire qua e lo voglio condividere con voi perché mi vuole trasmettere qualcosa quindi ecco non so matto penserete che sono matto vuole fare il figo e poi dopo però no a me piace condividere anche questi momenti con voi non solo i scherzi e tutto il resto però anche queste cose belle che rimangono nel cuore credo ecco riesco a parlarvi apertamente anche in queste situazioni io fondamentalmente sono bambino eccolo il mio divertimento il busterillo raga ma quanto è bello eh adesso anche il giretto sul busterillo stiamo al tollo stai a fare un giretto perché se no sempre dentro casa tutto ha portato guarda davanti alla mamma davanti alla macelleste eccola una volta partendo dalla bastia venivano qui che c'era la madonna che si muoveva e che faceva? e dici che si muoveva e che faceva? niente che faceva? che faceva? che faceva la madonna? e niente che faceva? va affanculo no che faceva? che la fa? devo li porto un po' in giro per esempio dentro casa fa male raga fa male bisogna respirare l'aria bisogna il sole è importante vero no? eh sottopalla com'è? fermate Dio scavo no no guarda ti controlla proprio c'è la mamma se c'è i coglioni davvero c'è la mamma c'è la v c'è la mamma eh già mi fa male che fa male dalle botte i coglioni i coglioni fa male è il numero 5 è il numero 5 che tramonto eh che bello che spettacolo ragazzi è una cosa che non non ho più mano riesce a vedere che spettacolo guarda come si saluta grazie francesco grazie chi ti saluta chi? il sole salutalo no sta verso lì là il sole guarda ti tu guardi fisso guardalo fisso il sole si ma guercio più che sa guercio respira un po' d'aria respira bene guarda che bello vien qua che spettacolo guarda col sole dietro che bello guarda si spostamo ta non c'è la palla del sole non c'è la palla ecco c'è la basilica ora che bello scende chiude sto sportecco entra l'aria scende scende là e come no dai Gimo fermati che sto legato scende là un attimo no 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 oh madonna mia fermate strozzo testa di cazzo nucleare e dagli il piano costo 14 della macchina beccamore salve il cesto non c'è aiutami che questo si è matto fermate legge il piano mi fa scende cazzo di cazzo nucleare a almeno mi hai portato a far dire sei contenta? qualcosa ho fatto sei contenta? eh? sei contenta? tanto il signore ti dia dieci volte di più eh croci strada guarda che campetto fermate però c'è una ma allora vuole incazzare sei sempre incazzato te come è nonna maria? davanti alla chiesa eh sopra san francesco eh ti sei fermato siamo scesi no? il sole stava calando eh la palla del sole pulsava grazie francesco grazie eh certo che spettacolo bello tu da te ti ha pulsato? da te ti ha pulsato? eh ti ha pulsato? ma tu non mi hai puntato niente ti ha pulsato o no? no appena è uscito cioè da un po' è uscito il video su youtube fate il swipe up dello scherzo del pacco te lo ricordi? eh quel pacco la telefonata del pacco fate il swipe up che questo è il pacco fai c'è Riccardo saluta Riccardo ciao Riccardo meglio ma se sciacca di coglionto è lui no poraccio ma è Riccardo ciao Ricchi ma tutto questo maialino rimai alettato con capocollo pancettina ripancettata che dieta è? quella che mi vuole cazzo e poi? e poi e dopo e dopo e dopo e dopo come è o no? com'è? eh le stai guardando il computer ma vive le vedo mai come no? è lo stanno ma non si può eh? ma non si può figa zero ah no e guarda guarda la mano eh oh no è emozionato è emozionato il coccodrile mi metto a fiare e ci piccipi ci piccipi e ci piccipi ci piccipi ci piccipi ci pi è romanticone io cuscino i guanciali i guanciali i guanciali che romanticone comprami l'uovo di Pasqua sì, c'erano due due ce l'hai fa vedere fammi vedere le palline guarda quelli del cane è l'arte di coglione incomincia non esiste, sera mi sono aperto un po' con voi in diretta ma era giusto dire certe cose perché sono belle non mi vergogno di niente soprattutto di queste cose anche perché se sei te stesso sei lontano quindi ricordatevelo sempre adesso sono stravolto vale a letto, ci vediamo domani e mi raccomando sempre in forma perché anche voi siete la mia forza quindi buonanotte